Ciao, sono la dottoressa Carmen Valentino e oggi voglio rivolgermi a te se hai una pelle tendenzialmente grassa infatti voglio darti qualche piccolo accorgimento che puoi utilizzare quotidianamente per impararla a gestire al meglio e senza alcuna difficoltà innanzitutto mantieni la pelle sempre pulita quindi al mattino mi raccomando detergi il viso utilizzando un detergente a base di bardana perché ha un'azione purificante puoi completare la pulizia con un tonico per rimuovere l'eccesso di impurità oppure tracce di trucco ma assicurati che non abbia l'alcol perché l'alcol ha un'azione altamente irritante per il viso poi una volta a settimana dedicati all'esfoliazione quindi come primo step vai a dilatare i pori con un bagno di vapore e dopo di che puoi passare all'esfoliazione con acido salicilico oppure acido glicolico infine puoi applicare una maschera purificante all'argilla che va a normalizzare l'eccesso di sebo mi raccomando alla crema utilizza sempre una crema a base di bardana perché ti ripeto ha un'azione purificante quindi non utilizzare una crema che sia molto grassa perché altrimenti a fine serata può capitare che la tua pelle risulterà unta o oleosa e inoltre mi raccomando sei attenta all'alimentazione quindi cerca di limitare zuccheri raffinati oppure alcol bensì cerca di mangiare carni bianche pesce azzurro oppure cereali integrali quindi spero di esserti stata utile se hai qualche domanda puoi scrivere un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video ciao